Con Squizzato perché nell'ultimo periodo avevi ripreso un bel trend, oggi altra partita positiva, stiamo rivedendo il vero Squizzato? Sì, ho avuto un calo come normale che sia, in una stagione intera non si può essere sempre al 100%, sono contento della vittoria di oggi perché era tanto tempo che lo aspettavamo, soprattutto vincere in casa ci voleva per i nostri tifosi che ci seguono sempre, quindi ci mancano 5 partite e dobbiamo farle nel migliore dei modi cercando di vincere e qualificarci per i play-off. Da un tuo recupero palla, se non erro è partita l'azione del gol? Sì, è quello che mi ha chiesto il mister in questa settimana, ovvero oltre alla fase di possesso, lavorare molto anche nella fase di non possesso e di schermo davanti ai difensori, aiutarli sempre in fase difensiva, quindi sono contento della vittoria, sono contento della prestazione di squadra.